Ok, ci ho messo al treno adesso! Ora ci va! Andiamo in barca a Cisenatipo Questa è la nostra barca Guardate che bella Aiuto io, ho paura a salire Cadrà il mare Ci ho saltato una 600p in mano Call in all your best friends Tell me why you're thinking I can keep it secret Well I don't know this for sure And I'm trying not to think too much But it feels like I could fall And you hold me up With the right words I saw you walking past I sensed it in the dark I'm nervous and I'm wound up tightly Rich lit your silhouette Laced dress and flower hair Is it too much if I wait goodbye? We don't need a reason Calling all your best friends Tell me why you're thinking I don't care I can keep it secret I can keep it secret I see Siamo venute a cercarli al mare E abbiamo scoperto che sono nell'idromassaggio Che senti? Non ho parole A Belli E' la casa Signori e signori La casa Come on Come on Surinates Mi trovo qua sulla spiaggia di Forte dei Marmi Perché sono venuta a fare la mia sessione di corsa di Ilis E niente sta diventando un po' tanto buio Spero che si veda Qua davanti a me c'è la Capannina di Franceschi che è un locale che piace molto a Nicolò anche se non ci siamo mai stati però vi volevo dire che faccio questo video per parlarvi un po' del weekend a Cesenatico che c'è stato perché appunto si è tenuto l'It and Meet the Casta purtroppo non ho clip del Meet the Casta in sé perché sto utilizzando una nuova fotocamera ho venduto la Canon 600D ho comprato questa Sony che trovate il link in descrizione, anzi fatemi sapere se vi piace o no la qualità video, audio insomma fatemi sapere infatti ho fatto video sul giorno dopo parlando proprio del Meet the Casta in sé è stato molto molto bello divertente il fatto che i ragazzi dell'associazione White Badge che hanno organizzato il tutto ci abbiano intervistato poi ci avete fatto anche delle domande quelli che erano presenti ci hanno fatto delle domande e in più abbiamo assaggiato anche degli snack romagnoli molto particolari dopodiché io e Letizia ci siamo esibite vi giuro che ero super in ansia perché non sono abituata tanto ad esibirmi in pubblico e questa era una cioè non lo facevo dopo tanto tempo poi a un Meet the Casta ero proprio tipo una corda di violino però poi è andato bene e niente poi lascio giudicare a voi e le dice che è in la classe 18 stuck in a daydream been displayed since 18 but lately her face seems slowly sinking with steam crumbling like pastries they scream the worst things in life concrete to us and the crew it's just the courage the girls in the air what the shouting in the yards look away but there are songs singing like the rest one better than before and then you're singing the song thinking this is the life and you wake up in the morning and you have to block the size when you're gonna go when you're gonna go where you're gonna sleep tonight straight from inside now I feel it in my phone enough to make my system blow welcome to the new age to the new age welcome to the new age to the new age wow 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 I'm radioactive radioactive wow 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 I'm radioactive radioactive poi abbiamo genato insieme e siamo stati lì abbiamo chiacchierato e devo dire che il vostro la vostra presenza è stata la cosa più bella perché non solo eravamo in un paesaggio bellissimo perché in driva al mare di sera al tramonto è stato davvero qualcosa di magico ma poi perché siete stati davvero troppo dolci nel senso non lo so è proprio stata una atmosfera magica comunque avevamo un po' su lì stavamo lì chiacchieravamo abbiamo mangiato insieme tutti insieme appiccicati al tavolo devo dire che è stato davvero un mix de casta bellissimo e quindi ringrazio tutti quelli che sono venuti da più o meno lontano per passare un po' di tempo con noi e il giorno dopo siamo andati in barca eravamo divisi in due tre barche io e l'etizia e Shanti eravamo in una barca infatti avete visto ci siamo anche tuffate a largo nonostante io all'inizio avessi un po' di paura però poi dopo siamo andati al bagno le ragazze erano nelle dromassaggi siamo andati anche noi purtroppo il puscientino non ha potuto fare il bagno e poi dopo avevamo fatto un altro bagno nel mare tipo mille mille bagni e poi siamo tornati a casa quindi niente lo volevo ringraziare veramente e adesso vedremo un po' dove organizzare il prossimo si vocifera una possibile Roma number two però io non vi ho detto niente perché non ho ancora deciso niente quindi poi magari gli altri della cassa mi ammazzano quindi io non ho detto niente veramente comunque io direi che è anche l'oretta perché è molto tardi di tornare a casa e niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao